Si è parlato di farmaci, farmacie e farmacisti in un congresso nazionale che si è svolto a Firenze, una svolta storica, quella definita appunto dal presidente di Urtofar, l'unione dei titolari delle farmacie della Toscana, Marco Nocentini-Mungai, definisce storica la proposta della regione toscana di limitare la distribuzione diretta dei farmaci in cambio di una visione delle farmacie come punti di servizio al cittadino, una sorta di multi servizi. Sentiamo. La regione toscana limiterà la distribuzione diretta dei farmaci a un primo periodo dopo la dimissione dall'ospedale e ai prodotti più costosi, ma le farmacie dovranno diventare un vero e proprio centro di servizi, gestendo anche le prenotazioni, il pagamento di ticket e rappresentare dunque il primo presidio sanitario più prossimo al cittadino. E' questo in sostanza il patto proposto dal presidente della regione toscana Enrico Rossi e i farmacisti nel corso del congresso dell'Urtofar, l'unione regionale dei titolari di farmacia della Toscana, al Palazzo dei Congressi di Firenze, intervenendoro se si è detto contrario alle forme di liberalizzazione delle farmacie e al mantenimento della loro pianta organica. Se viene tolto il limite delle quattro farmacie per provincia allo stesso titolare, che deve essere un farmacista, c'è il rischio di un intervento massiccio di società, di capitali non gestite da farmacisti e di grandi gruppi che ovviamente guarderanno solo alla redditività e meno all'aspetto del servizio ai cittadini, ha spiegato, indicando anche la necessità che i farmacisti siano di più al fianco del clinico e vicini al letto del paziente. La Toscana è al penultimo posto nella classifica del costo ricetta per farmaci, 15 euro. L'ultima è l'Umbria, a 14, e la prima è la Lombardia, con 20. Nel corso del congresso Rossi ha anche confermato il progetto di riforma della sanità su tre macro aree. Perché non dovrei provarci, ha detto? Forse perché ci sono nicchie di potere? I migliori professionisti devono poter governare le strutture interaziendali, ha aggiunto il governatore, ricordando che per legge il 2015 sarà l'anno in cui i professionisti saranno chiamati a dare il loro contributo per salvare il Servizio Sanitario Nazionale, che in Toscana, in seguito ai tagli per 570 milioni di euro, dovrà studiare un risparmio di almeno 250 milioni per l'anno in corso.